le macchie ce le facciamo col burro no no la vede questa è una macchia non da loro in piemonte le macchie se le fanno col burro no magari questo non è ma certo che ne consumiamo parecchio pensi che mettiamo il cuore persino nel caffè latte ah no noi nel caffè latte non mettiamo niente né latte né caffè ma signor non ci mettono niente io avanzo cinque mesi di fitto e questa è l'ultima volta che vengo oh e noi non chiediamo di meglio qua mi seguo e qua l'aspetto ma scusate don giochino io dico una cosa ma perché volete sempre parlare con mio marito parlate pure qualche volta con non felice con tutte e due e non mi muovo da qui finché non vengono e mi devono pagare eccolo ecco ecco ma posso andare ma scusi lei lo sa dove sta la stazione si che lo so e chi gioca la stazione sto già venuto perché vai a scrivere una lettera una vera pepini corri vai vai una lettera di carta sa cominciamo pure ma perché le lettere si scrivono di porcellane eh ma per roba buona va dunque lei è ignorante io sì bene bravo viva l'ignoranza tutti così dovrebbero essere e mi raccomando siete figlioli non li mandi a scuola per carità no le figlie ne tengo gli faccio sguazzare dell'ignoranza ma tengo un compagno nipote è proprio da lui deve scrivere la lettera ah bene oh il marchesino Eugenio fai il marchesino buona una sedia al marchesino una sedia al marchesino una sedia al marchesino una sedia al marchesino ma che fate la milione eh la milione non c'è quella di sotto quella di sotto appena vede una persona appena vede una persona manche sì eh scusate manche sì scusate manche sì prego affamodata accomodiamoci ma ma che cosa stai la distrazione la distrazione ma que cosa stai la distrazione ma che cosa stai la distrazione la distrazione la distrazione la distrazione la distrazione la grida di sotto la Grazie a tutti. Ma stamattina andando via ho dimenticato i guanti. Eccoli. Grazie tante, buongiorno. Buongiorno. Cavaliere, ho il piacere di presentarvi la contessa del Pero, mia zia. Fortunatissimo. La contestina del Pero, sua figlia. Molto piacere, signore. È il principe di Casador, mio zio. Luigi, ma te la fa, ma non ti vuole più bene. E appunto, devi essere tu a convincerlo a far pace. Sono che sorella sei, bella e sei mia. Funicola la senza corrente! A me! Quella la tiene la corrente! È rinforzata! È pronto! Ma signori nobili, ma principessa, contessa... Che c'è? Avete perduto un baffo? No, ma per carità! Ma per barca è vero, non facciamo scherzi, chi l'ha presa? Non me lo incaricate, è una mossa sanguigna. Sì, perché sapete che c'è chi durante le liti, chi perde la pazienza, chi perde la calma. Io perdo il pelo. Questa volta è stata la volta di un baffo. Feli, ma ero così abituato a fare il signore. Pasqua, Pasqua... La distrazione. Scusate. Torno nella miseria, però non mi lamento. Mi basta di sapere che il pubblico è contento. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.